Sono giorni che aspettiamo questa partita, stiamo procedendo bene con gli allenamenti e cerchiamo di concentrarsi e fare del meglio per ottenere un buon risultato. Forse il penultimo ostacolo prima della Serie B2, perché poi l'ultima giornata avrete la gara con la 2012, però forse vincendo questa partita andando possibile più 5 sulla seconda, anche più 4 andate per bene, qualora il professor di montare quelle che sono sotto, renderebbe forse più agevole il passaggio alla categoria superiore. Sì, diciamo che ottenendo i tre punti saremo un po' più tranquille. Poi c'è stata quella sconfitta, perché si trana fa, che ha perso a Latina, se non ricordo male, vi ha dato un impulso importante, insomma da quella gara se ne forse anche cambiate, maturate. Sì, diciamo che come ho già detto in passato, quando perdi delle partite importanti hai sempre un po' più di impegno, insomma riesci sempre poi a affrontare il campionato con una verba maggiore. Poi andare in B2 forse per te sarebbe una cosa ancora più speciale, visto che poi raggiungeresti la Dispoli, la squadra tra cui provieni. Sì, diciamo non tanto per quello ma proprio per una soddisfazione personale, perché comunque sono due anni che ci proviamo, due anni che falliamo un finale e questo sarebbe insomma il risultato che bisognerebbe raggiungere.